Bentornati ai pochi e affezionati seguitori o seguitanti o seguitosi del Locuse Bar Stiamo a fare il video serale, stasera parliamo di Satanic Era un po' di tempo che l'avevo un po' abbandonata 7-8 giorni, in realtà la serie è finita da due settimane, credo Non mi ricordo l'ultimo video che ho fatto su Satanic Lo dico subito Su Satanic, 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 Satanic L'ultimo video era 11 giorni fa, il ritorno di Vuldalac Quindi 11 giorni fa abbiamo fatto l'ultimo video su Satanic Questo ovviamente è il numero di Robby Mi sembra il 57 ma non vorrei sbagliare Robby Invece sono seccato, era il 57 del 15 maggio del 66 Ovviamente il numero 67 contiva la stupefacente coppia Magnus e Bunkin In secondo me Magnus raggiunge le vette, il vertice Naturalmente era della sua linea grafica Naturalmente è tutta un'altra linea rispetto allo sconosciuto È tutta un'altra linea rispetto a vendetta Macumba È tutta un'altra linea rispetto al Texone Un po' recupera certi visi di Satanic e di criminal Se guardate il volto di Tex qualcosa del commissario Trent Il commissario Trent che non trovo Insomma il volto squadrato del commissario Trent Se guardate un po' qualcosa un po' ritorna Perché come sempre tutto all'eterno ritorno tutto ritorna Però in questa fase in realtà questi fumetti vengono sfornati a un ritmo abbastanza elevato Quindi il tempo di rifinire questi fumetti Qui l'abbiamo in versione bianco e nero Bianco e nero funzionava così Ovviamente gli aerei sono disegnati un po' approssimativamente Sì molto insomma così Masbung Magnus si dedica anche a diverse duette femminili È quello che gli interessa di più Gli elicotteri di Magnus non sono proprio il massimo del massimo De Maxime, De Maxime Sono delle silhouette che insomma uno deve far finta di credere che siano degli elicotteri E va bene nel senso che sono primi degli anni 60 Mentre le armi sono sempre molto bene Non lo prendiamo ovviamente questa in bianco e nero Questa è la edition della Gazzetta dello Sport che è finita Ora è iniziato Billy Bees E va bene portiamo Billy Bees per altri 50 numeri Non so quanti ma io ho preso i primi due numeri Ma non li prenderò tutti, 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 tutti No Allora veniamo un po' Vabbè questo è colorato Vabbè ormai non ne parliamo più del colore Perché sì e perché no No dicevo che ovviamente si capisce Si era trasformato in un po' vertiginoso Le clienti si trovano abbastanza semplice Perché si trovano farsi Gli hanno trovato in più In bianco e nero Ovviamente Max e Satani che si baciano Ovviamente Max Lincoln e Satani Sono i due fidanzati storici Anche se poi è una storia molto facile Gli automobili non è che gli venissero Però venissero mai negli anni 60 Stavo cercando sto benedetto elicottero Che c'era da qualche parte Lo troverò eh Ecco non è che gli elicotteri di Magnus Sia Un po' così Naturalmente sono fuggite gli anni 60 Quindi vanno presi con Cioè il lettore ripetiamo Fuggite gli anni 60 Un po' meno esigente Uno del lettore degli anni 2023 E a parte certi manga Sono disegnati Che non sono poi tanto meglio Ovviamente se prendiamo Batman Direcchioni Direcchioni che l'ha disegnato Soggetto di chine e matite Di Wartel dell'era Vabbè ovvio che è tutta un'altra roba La qualità del fumetto Del disegno oggi si Poi col computer Del grafico Comunque Che negli anni 60 C'era solo il tavolo A volte anche da cucina Dove si lavorava Cioè Era Non so dove lavorassi No Ma si lavorava anche sul tavolo da cucina E si disegnava Dove capitava Nel senso Liga Squadra Compasso E Batite E poca altra roba In senso Quindi Sì certamente Ci si avvaleva Dell'aiuto Delle fotografie Ma Dei limiti Del possibile Dell'immaginabile Ci si avvaleva Ovviamente Come sempre Si fa un personaggio Dei numeri passati Perché quando poi Codifichi Un personaggio Ovviamente Ne codifici Codifichi Codifichi Le Vabbè Le forme del viso Di carattere Eccetera Eccetera Per questo Appunto Dicevo Magno Su un certo punto Il gruppo TNT Si ha rotto le scatole Eccetera Eccetera Ma ho già detto Queste cose Infine volte Questo numero Della stampa È molto interessante La dava di picche Picche Ovviamente La donna Dava di picche Picche Dario di picche Vabbè Ovviamente Abbiamo un caso Di sosia Di sosia Di sataniche Che si Inversi Il numero Ovviamente La storia È abbastanza Semplice Lineare Una sosia Di sataniche Che indossa Il suo costume Delle origini Il famoso costume Con la coda Il costume Di sataniche Ovviamente Per farsi spacciare Per sataniche Indossa il costume E Si spaccia Per sataniche Compiendo Degli efferati Crimini Che vengono attribuiti Ovviamente A sataniche Ovviamente A sataniche Si incavano Questa è la vera Sataniche Stavo cercando Dov'è Quella Costuma Non riesco A trovare Ah ecco Sì Questa scena Dove si vede Questa in realtà Non è sataniche Spara Ma è la sosia Ah 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 Queste scene Ah 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 Sataniche Uccide ancora Queste scene Rubavano La censura Di anni 60 Che era La scena Che vengono La donna Con la pistola Che spara In realtà È un fumetto Molto femminista In quanto Ovviamente Sataniche In questo caso È fidanzata Con Max Lincoln Che è Ovviamente È descritto In maniera Molto erotica Nel senso Nella coppia Sataniche Max Lincoln Lincoln è Un cialtrone Un Un Debusciato Che Ha il funerale Sulla tomba Di Satanic Mentre Sulla tomba Di Satà Che crede Che sia morta E non è morta Corteggia Una bella vedova Che poi Si scoprirebbe Si scoprirebbe Si scopri Il corteggio Questa bella vedova In realtà Non è altro Che Satanic La vestita E dice Sì Vabbè Chi è morto Giace Chi vive Si dà pace È ovvio Che Satanic Gli ammolla Un bel ceffone Ma In questo caso L'elemento Diciamo Farfallone Cioè L'elemento Debole Della storia È l'uomo Questo Mas Munch Ha arrovesciato Completamente I ruoli Negli anni 60 Negli anni 60 Ha arrovesciato I ruoli Cioè Oggi ovviamente Si parla di tutto Però Pensate a un fumetto Negli anni 60 Che rovescia Completamente I morruoli Quindi Max In questo caso Addirittura Abbiamo Sì A ragione Gaspo Una sorta Di triangolo Il triangolo No Non l'avevo Considerato In quanto Trent Satanic E Max Sono Per incastrare La falsa satanic Cioè Satanic Si spaccia Per la moglie Di Di Trent In questo caso Trent è molto coinvolto E Sembra quasi Insomma Addirittura A quattro Perché c'è anche Sent Che è risorto In realtà Non mi ricordavo Sent Sì Come dice Gaspo Sent era quello Che era stato vampirizzato Da Burdalac E poi risorge Con una storia Piuttosto Improbabile Con un sosio Eccetera Eccetera Ma semplicemente Le resurrezioni Dei fumetti Credo che siano Cioè Fuori dai fumetti Abbiamo solo il caso Di Gesù Ma dentro dei fumetti Le resurrezioni Sono infinite Quindi abbiamo La resurrezione Di Sed Che ovviamente Scopriamo Che non era lui Quello Ucciso Quello vampirizzato Da Burdalac La 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 storia Non tiene molto Ma insomma Ecco Noi lettori Facciamo finta Di crederci Anche perché Appunto Alcuni personaggi Muoiono Sent è un personaggio Secondario Non passerà Sì In un certo senso È un po' L'archetipo Della Cariati De Geremia A qualcosa Della futura Cariati De Geremia Anche se non era Cariati De Geremia Per la sua passione Smodata Per il cibo Sent mangia Sempre In qualsiasi Condizioni Eccetera Però Si Si fanno Prove Tecniche Di Gruppo TNT Sempre Come La Cariati Rimanda Anche perché Il cibo Oggi Non è un elemento Molto comico Ma Il cibo Siamo in Italia Che comunque La guerra Non era lontanissima Negli anni Sessanta È ovvio Che il cibo È un'ossessione È molto italiana Se guardate I fumetti italiani E americani Il cibo È un'ossessione Più italiana Perché è un paese Che ha sofferto Per anni Decenni Secoli Millennia La miseria E poi la seconda Verona mondiale Ci siamo mangiati Di tutto Gatti Topi Eccetera È ovvio Che nell'immaginario Collettivo La ricerca Del cibo Pensiamo a Totò Che nel famoso Pranzo Si mette Gli spaghetti In tasca E appunto Totò Peppino Sul cibo È uno dei punti È un punto Di riferimento Della comicità italiana Cioè del povero D'Arlecchino Anche D'Arlecchino Servitore di due padroni Che appunto Mangia di qua e di là Cioè proprio È un'ossessione Tipica Che rientra Molto spesso Nel teatro comico Italiano E ovviamente Nel fumetto comico Perché questa realtà Satanica Non è un fumetto Di sexy Non ha nulla Anzi è molto romantico Vediamo appunto Sembra Love Story Il bacio Tra Max E Satanic Anche se ripetiamo Satanic Dice Anzi Satanic Gli dice di tutti i colori Sei un ipocrita E un deficiente Insomma Gli dice di tutti i colori Però È un concetto Un po' Strano Dell'amore Ma chi c'è Più imbecille Di te Max D'Anche degli imbecille Però Come sempre C'è una riflessione Anche piuttosto interessante Nel senso che Non sempre ci innamoriamo Delle persone Più belle Più intelligenti Più oneste Ma l'amore È qualcosa L'amore Naturalmente Parlare ora d'amore C'è stato tutto il caso Dei femminicidi Però molto spesso ci innamoriamo Non dico di persone sbagliate Ma persone che Moralmente Non stimeremmo più di tanto Ma di cui siamo innamorati Questa Riflessione che fa il buon vecchio Max Booker Non è stupida Satanic Che non ha alcuna stima Di Max Max Lincoln Però Ne è innamorata Almeno per il momento E in questa cosa Si serve di Trent Che so C'è una scena In cui anche Trent Insomma A vedere Satanic Nuda nella doccia Ci andrebbe anche lui Dimenticando tutti i suoi efferati Desideri Di vendetta Trent Dicevo Se guardate il texone Un po' ritorna Il disegno Di questi tempi Ovviamente Vabbè La storia è molto semplice Il doppio Il doppelgang Nel senso Anche il doppio Il sosia Il doppio Ci porta Se questa sarebbe La falsa satanic Che Vabbè Ah no Questa è satanic Travestita Ovviamente Satanic travestita Va a fare il bagno E tutti Vogliono andare Non è neanche Neanche il triangolo Sono in quattro C'è Trenta Vabbè Una scena Comica Da gruppo TNT In cui tutti Si fiondano Per vedere Satanic Nuda E io Purtroppo Non ero cosento Nel 67 Perché nel 67 Io dovevo ancora Nascere Ebbene sì Quindi ho svelato Questo tremendo segreto Naturalmente Non ho letto Non ho comprato Satanic Ne dico Nel 67 Anche perché Insomma Non sono così Old time Sono nato nel 68 Però nel 68 Ho pochi mesi Di vita Non è che Andavo in edicola All'epoca C'erano molte edicole Però non avevo Ancora forse Andare in edicole E comprare I fumetti Di satanic È una storia Che ribalta Un po' I luoghi comuni Quindi è una storia Per il 67 Che si legge Ancora Del fumetto italiano Questo è il 67 In cui Tra l'altro Il vero maschio È la donna Perché è satanic Riesce anche a Con le sue Arti di seduzione Guardate Questi belli Primi piani Cioè questa inquadratura Qui La faceva solo Magnus Poi è qualcosa Che non è entrata Molto nel fumetto Nel senso Il fumetto Preferisce Il disegnatore Un po' così Preferisce Anche prendo Battere Però Sono inquadrature Che Questa qui Magari Le lab Eccetera Però Vedete che Comunque Magnus Rimane Anche Rispetto a Frumetti Assolutamente Moderni Questa è un'impostazione C'è la vignetta Con Il quadratino Con la faccettina E Ancora Questo è un fumetto De ora Che stiamo parlando Di Roma antica Mentre Questa inquadratura Dell'occhio Tipo Hitchcock Ovviamente Sono dei sistemi Per risparmiare Per risparmiare Per risparmiare Tempo E faccio un occhio Solo Già Risparmiare Tempo Però Questa inquadratura Alla Magnus Alla Hitchcock Magnus È un tratto Distintivo Che tra l'altro Sparirà In gran parte Nello sconosciuto Cioè Nello sconosciuto Magnus Torna Un tipo Di disegno Sembra strano Ma più Tradizionale Cioè Queste inquadrature Con pezzi di volto Quasi Dei frammenti Di faccia Sono state create Certamente Per motivi Di tempo E di risparmio Di Tempo Lavorativo Però Dovremmo Torna sempre Appunto La necessità La necessità Guzzi All'ingegno In realtà Questi occhi Che ci fissano Dal fumetto Hanno Ancologico Un effetto Ipnotico Sare di dire Anche Nelle inquadrature Di Magnus Sono molto Ad esempio Qui Magnus Inquadra C'è una cosa Assolutamente assurda Mezza bocca Cioè Non inquadro Un'inquadratura Assolutamente È come Dei frammenti Di volto Che vengono inquadrati Naturalmente L'idea Cioè La cosa Classica Se prendiamo Anche Diabolico Datemi Un Diabolico Datemi Diabolico Se Becco Diabolico Vabbè Non Diabolico Non Lo Trovo Ah Prendiamo Lo sconosciuto Tanto Per capire Vedete Che Nello sconosciuto È Molto Più Tradizionale Cioè Un fumetto Assolutamente Tradizionale Dove I volti La vignetta Riporta Il volto Intero Si A parte Scena Di nudo E Sembra Strano Ma È più Innovativo Dal punto Di Si Qualcosa Ovviamente Rimane Nel senso Questa Un po' Richiamo Ecco Qui Richiamo Vagamente A satanico C'è Questi Volti Tagliati Però Nello Sconosciuto I volti Sono Cioè Un fumetto Sembra Strano Ma Molto Più Tradizionale Cioè È più Innovativo A satanico Cioè Sembra Strano Ma satanico Ha delle Inquadrature A parte Questa Che celeberna Ovviamente Le inquadrature Più famose A parte Gli elicotteri Disegnati Da schifo Però Queste inquadrature Sono Anche Questo Questo Tipo Cioè È ovvio Che Io credo Che Magnus A un certo Punto Aveva inventato Questo tipo Di inquadrature Ovviamente Per Per Sopravvivenza Nel senso Che Dovendo Disegnare Fumetti Su fumetti Che diceva Satani Crimina Ford È ovvio Che doveva Trovare Delle tecniche Di sopravvivenza Diciamo così Però Queste tecniche Di sopravvivenza Avevano In un certo senso Rivoluzionato Il modo Di rapportare Il personaggio Cioè Dava Uno spessore Ecco Una cosa simile Cioè Questo Nello sconosciuto Non lo vedrete più In realtà Quest'occhio Che ti fissa Sembra quasi Un quadro Di lictestà Cioè Sembra arte Moderna E contemporane E quindi L'occhio Di satanico Potrebbe essere Una firma Di Magnus Una firma Uno stilema Di Magnus Una firma Di satanico Di crimina Che ovviamente Sparisce anche Nella forda Perché anche Nella forda Questa cosa È già sparita Ora non c'è Nella forda Ma insomma Quell'occhio Di satanico Potrebbe essere Un occhio Di satanico L'occhio Del diavolo Sarà Molto interessante Per andare L'occhio Di dio L'occhio Di satanico L'occhio Di crimina Che ovviamente Ci guardano Dal fumetto Cioè Ci danno Uno sfondamento Della finzione Cioè È ovvio Che noi Abbiamo sempre Una distanza Tra noi E la storia Nel senso La storia è lontana Come se guardassimo Da lontano Da una lontana finestra E quindi vediamo È come La vignetta Crea sempre Una distanza Tra il lettore E il Il personaggio Di fumetto Mentre L'occhio di satanico L'occhio di satanico Annulla In parte Questa distanza E ci dà Un po' Lo sfondamento Della vignetta Non ho molto Altro da dire Nel senso L'occhio di satanico Secondo me Questa immagine È un'immagine iconica Nel senso Sono delle tavole Che ha le tavole originali Se le conservo Perché Destamente Pochissimi Hanno avuto L'ardire L'ardore L'ardure Di fare una cosa simile Negli anni Sessanta Si poteva fare In realtà I fumettisti Oggigiornaschi Sono molto Perché Vengono ovviamente Dalle scuole di fumetto Ovviamente Le scuole di fumetto Mi insegnano La tecnica La tecnica È molto Cioè Voglio dire Vabbè In senso È ovvio Come la tecnica narrativa Vado alla scuola Olden Mi insegnano Ma non c'è Una tecnica Scusate Che scuola di fumetto Ha fatto Magnus Nessuna Solo guardate Un po' di fumetti Di Alex Raymond Di Fumetti americani Negli anni Trenta e quaranta Ograt E chissà quante altre cose E poi Si è creato Il suo stile Cioè Questa è la sua scuola Di fumetto Non è che E la scuola di fumetto Era la sopravvivenza Perché doveva sfornare Questi numeri In un tempo Molto veloce Quindi In realtà Non dico che Le scuole di fumetto Non servano a niente Naturalmente Tutto serve Ma la scuola Imparo La sceneggiatura Imparo L'inquadratura Però Quando si va Dalle scuole di fumetto Si rischia Poi tutti Di fare Lo stesso Brodo Nel senso Che questo è Chires Fantastic Four Fumetto americano Questo è bellissimo Storia Singer Eccetera Eccetera Però Nel senso Si Si rischia Un po' Di fare tutti Un po' Stata roba qui Che va bene Però Ad esempio Questo C'è un'innovazione Tutte le vignette tagliate Di sguicio Ma Con un'innovazione Molto Cioè Questo che lui Crede di essere Chissà cosa Chissà D'aver fatto Chissà Sta gran cosa È un fumetto Assolutamente Tradizionale Molto Cioè È Apparentemente È Apparentemente Perché molto spesso Sono furbescamente Innovativi Mentre È stato tutto Mentre Ovviamente L'occhio di Satanic È veramente Innovativo La silhouette Di Magnus E l'occhio di Satanic Sono veramente Innovativi E infatti Pochissimi hanno Questo stile L'hanno colto In pochi E poi Praticamente Posso dire Che è morto Con Magnus Perché è un modo Di Di gestire L'inquadratura Che lo stesso Magnus Poi ha abbandonato Perché È È di difficile gestione Nel senso Che naturalmente Il disegnatore Si sente Un po' In colpa Perché Dice Vabbè For un occhio Solo Poi Me pagano Quindi Sembra un po' Che la bozzi Così Però In realtà Non è questo Il punto Il punto È che Si crea Cioè Chiunque abbia avuto In mano I disegni Di Satanic Questa cosa qui Che ritorna ovviamente A un modo Per risparmio a tempo Però L'occhio E la immagine In fondo Il disegnatore Che lo Magnus A un certo punto Si può sentire in colpa Di aver usato Questa strategia Però Questa strategia Riflettendoci È Qualcosa Che È uno stilema Di Magnus Cioè Noi quando Apriamo Satanic E Crimina Sappiamo Che troveremo L'occhio di Satanic O l'occhio di Crimina O l'occhio di Lola Se volete voi Però E lo troviamo Solo in questo tipo Di fumetti Anni 60 Ovviamente In Sadic Cioè Se noi prendiamo Sadic E gli altri fumetti In quel periodo Tutto questo Non c'è Questa è la grandezza Di Magnus Non per come Disegnava gli elicotteri I suoi elicotteri Facevano veramente Gagare Come il disegnatore Dei elicotteri Era una schiappa Cioè Era questo elicottero Non dico Lo disegno meglio io Ma poco ci metto Le pistole Disegnava bene Poi un disegnatore Non è detto Cioè Un grande disegnatore Non è uno che poi Sì Certamente Deve saper disegnare Ma è qualcuno Che a volte Trova Delle vie Che nessun altro Trova E Cioè Nel senso Poi appunto Le scuole di fumetto Ci insegna tante cose Ma Se prendete Un numero di satanic Imparate Cioè Imparate Forse Arts di aboli Nel senso Un'arte Che è diversa È come Quando senti Senti un pezzo Di paradigmi Capisci C'è qualcosa Di diverso E non è E quindi È qualcosa Che Un po' Cioè Mette Cioè L'occhio di satanic Ripeto Fino allo sfidimento Crea un rapporto Molto diretto Tra L'occhio di satanic Tra il lettore E il Cioè L'occhio Quest'occhio Che tra il lettore E il Il personaggio Disegnato È una fase Di profondo Sfondamento Nei limiti Cioè Questo è già Un po' Meno Però È questo Volere Questo volere Uscire Dalla Dalla Vignetta Ecco Quest'occhio Ti guarda In realtà Capite È quasi Di una grandezza Naturale Quindi È il fumetto Che ti guarda Come direbbe Nietzsche Quando tu guardi L'abisso L'abisso Guardate Quando tu guardi I numeri di magnus I numeri di magnus Guardano te Ora io Non ho molto altro Da dirvi Naturalmente Non vi sto a dire Che sono Decapolato Il fumetto Perché Però Se noi Prendiamo Appunto Questi fumetti Qui Queste Batman Ovviamente Che sembrano Molto più Innovativi Sono molto Più Trucchi Perché Poi Ci sono Trucchi Ovviamente Qualsiasi Persona Sia In musica Che Nel disegno Esistono I trucchi Cioè Quando Disegno Io Utilizzo Dei trucchi Naturalmente Quando Andate Appunto Alle Mosse Il disegnatore Mi ha fatto Uno schizzo In cinque minuti Che ci vuole È il suo Lavoro Scusate Come Il paragone È brutto Ma Scusate Come Il salumiere Che affetta La mortadella Se passi Tutta la giornata Affetta Mortadella Se mi ci metto Io A mortadella Quello Tutto il giorno Affetta Mortadella È ovvio Che ha imparato I suoi trucchi E nel disegno Ci sono I nostri Santi trucchi Cioè Quando uno Fa Uno Sketch Un ritratto C'ha Dei trucchi Se io Devo fare Come quelli Che sono In piazza Duomo E fanno I ritratti In cinque minuti C'hanno Dei trucchi Ovviamente Impostano L'ovale Sempre Quello L'ovale C'è Se vuoi Il naso Un po' Di grosso Sono Dei trucchi Io Non è che Vi sto A spiegare E faccio Un corso Di disegno Però Se fate Un corso Di disegno Vi spiegano Come si fa Un ritratto In poco Tempo Cioè Parti Da Uno schema Fisso E da Questo schema Fisso È come Gli identikit Che ci mette Le sopraccigli E quale Eccetera Eccetera Sono Dei banalissimi Trucchi Quindi È ovvio Che I disegnatori Che vanno Alle mostre Di fumetto In cinque secondi Perché Ormai È il loro lavoro Se non lo sapessero fare Sarebbe strano Cioè Non è lo strano Quando voi andate Una mostra di fumetto E quello Vi fa in cinque minuti Un text Uno zagolo Eccetera Ma è ovvio Dopo che hai disegnato Cinquecento tavoli Di text E zagolo È ovvio Che un ritratto Schematico Lo fa in cinque minuti Perché Mica vi fa Una vignetta Complicata Come questa Cioè Il conto è fare Una vignetta Non so Come questa Tutta così E un conto è fare Un primo piano Di Di Randogh Se l'hai fatto Trentacentosettantottomila Migliori di volte Ci mettono E lo fai anche Auticlusi A un certo punto Quindi in realtà Innovare in questo campo Non è così semplice Ma potrebbe apparire Molta gente Vede Delle Cioè Tipo Ora Non è che ce l'ho con questa Per carità Nel senso Bellino Beh Voglio dire Qui l'innovazione È più apparente Cioè Ovvio Che questa innovazione È fatta Le vignette Tutte sguinciate Tagliate In maniera A vetro rotto No Ma non è niente Di particolarmente innovativo Nel senso Non Sì Vabbè Non Non particolarmente Cioè Nei limiti Sì Splash page Ma tutto Cioè Sembra più Se io prendo Sembrerebbe più innovativo Questo di questo In realtà è più innovativo Questo Perché Che se si guarda In profondità E non ci si ferma All'apparenza Oppure Gli effetti scenici Di bassa lega E si capisce Come Cioè Io sono come salieri Non sono Mozart Però capisco Mozart Sapendo un po' Disegnare Non sono bravo Però Capisco i trucchi Questo Ho disegnato Da tanti anni Capisco il trucco Capisco Quando uno Mi fa il trucchetta Dice Mi stai facendo Il trucchetta Va bene Mi piace Sembra vino Eccetera Però Quando vedo Una cosa Come questa E capisco Che è qualcosa Che pochi Sanno fare Anche perché Poi Magnus Passava appunto Dal comico Più comico Al Lasciando Perde Sto colore A delle Anche la silhouette Totalmente Nera L'effetto Che non È stato Perché Sembra anche Questo Una cosa Così Vabbè Fa la silhouette In realtà Ha un bel effetto La silhouette Giustamente Dosata Ovviamente In realtà Appunto Magnus Arriva A toccare I nodi Della Della Visualizzazione Dei personaggi Molto Più in profondità Di quanto Apparentemente Faccia lui Ovviamente Questa Comunque Sarebbe una storia Lunga Di cui Ora Non mi Però Riprendete Questi numeri E osservate Come Magnus E molto Più Qui Che Nello Sconosciuto Molto Tradizionale Cioè Nello Sconosciuto Non c'è Niente Sì Bravo Magnus Ma Non c'ha Quei colpi Di Genio Che c'ha In Satana Questa È la mia Idea Ho detto Un sacco Di Fregnacce C'è Possai C'è Possata Però Guardate L'occhio Di Satana L'occhio Di Satana Che alla fine Ci guarda Ed è Un'immagine Iconica Degli anni Se sa Ma quanto Sono figo Ma quanto Sono bravo Come sono partito Ma quanto Sono anche Bello Direi Affascinato Ovviamente Che il vostro Passano 30 minuti A parlare Satana Ma Mi taccio Perché Sono anche Stato